La che differenza passa tra un figliore che vende castagne e un figliore che va presso una garza e che deve fare l'amore di Tanno Ucci. E lui è lui. L'essere differenza, tutto lo dico, tutto lo dico, ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi! Tu sei diventato famoso per quella barzelletta, ce la vuoi ripetere quella barzelletta lì? Subito. Vai. La che differenza passa tra un figliore che vende castagne. Sì. E' un signore che va presso una garza e che deve fare l'amore di Tanno Ucci. L'essere differenza, tutto lo dico, ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi! L'essere differenza, tutto lo dico, ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi. Maruni, Maruni! La differenza passa tra un signore che va presso una signora e chiede di fare l'amore e uno che vende castagne. No. Nessuna differenza, tutto lo dico, Maruni, Maruni! Ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi. Maruni, Maruni! Si è capito? Là che differenza passa tra un signore che vende castagne e un signore che va presso una garza e chiede di fare l'amore di Tanno Ucci. Nessuna differenza, tutto lo dico, ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi! Tu sei diventato famoso per quella barzelletta, ce la vuoi ripetere quella barzelletta lì? Subito. Vai. Là che differenza passa tra un signore che vende castagne e un signore che va presso una garza e chiede di fare l'amore di Tanno Ucci. Nessuna differenza, tutto lo dico, ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi! Ma Rupi, ma Rupi, ma Rupi! La differenza passa tra un signore che va presso una signora e chiede di fare l'amore e uno che vende castagne. No. Nessuna differenza, tutto lo dico, Maruni, Maruni! Ci faccio fatica, allora. Maruni, Maruni! Di fare l'amore... È meglio. Riprendiamo dalla passata qua. Come on! Là che differenza passa tra un signore che va presso una signora e chiede di fare l'amore e uno che vende castagne. No. Nessuna differenza, tutto lo dico, Maruni, Maruni! Non ancora capito. Maruni, Maruni! Maruni, Maruni! Ti capito!